Conrado Marescalco, Giuseppina Bianco, Francesco Crea, Maria Rita Pirrotta, Benito Marziano, se ci siete ancora avvicinati vi facciamo i saluti finali, Rita Di Rosa, qui davanti a me, tutti quanti ben in fila, prego, Rita Di Rosa, qui, Salvatore Spadaro, c'è certo, Paola Ciurcina, eccola qui, Romero Leone, l'avevo intravisto, eccolo pronto, Vincenzo Leanti, Sino, stacco, è andato via, io sto qui, Franco Berricone, certo, per i saluti finali, vieni, dai, Carmela Berna, se c'è ancora con noi, sì, allora, Luca Licitra, Francesco Altomonte, Salvatore Azzaro che c'era prima, e Luciano Mulè, allora, tutti ben in fila, questo di me, mano sulla spalla del prossimo, come si fa a teatro, mano sulla spalla del vicino, belli uniti, uno, due, tre, grazie a tutti. Applausi